Fidelici riceve, Orduna per la Pipe, Massegno per il Monza. E' Murato ancora per Recine, lavorano, difende con una mano e conclude. Incredibile azione questa, veramente incredibile. Confissione di Zonka, Reddits, palla salvata in difesa, ancora Lugunzi che spinge sull'acceleratore. Salvataggio ancora dalla difesa di Monza, confusione in corazione, vincente. La confusione è una lavatrice in campo. Giustamente con un attacco potentissimo nei tre metri, Zavornok mette il sigillo.